Ciao a tutti sono Sissi, bentornati sul canale per il video recensione della 9x11 di The Walking Dead episodio intitolato Bounty. Dunque questo episodio a differenza di quello scorso mi è piaciuto un po' di più anche se è comunque anche lui un episodio di transizione anche perché come spiegherò poi nella recensione non vediamo ancora tutto il potenziale di Alfa, non succede tra virgolette nulla di che. Bene, incominciamo subito io volevo parlare subito della situazione del regno, di Ezekiel eccetera per poi passare alla questione di il top dei sussurratori, dello scambio eccetera. Quindi l'episodio si apre con un flashback del dopo Rick insomma noi lo vediamo perché come unità di misura abbiamo i capelli di Carol praticamente che erano i capelli fino qua a caschettino e quindi saranno passati non so un paio d'anni dal un anno e mezzo due anni dopo la scomparsa di Rick e niente praticamente vediamo che si stanno trovando ad un appuntamento con Jesus che rivediamo e Tara. Tara che porta, hanno fatto uno scambio insomma perché a Diltop avevano bisogno di delle medicine eccetera e Tara porta praticamente a, dice una cosa importante, dice io non sto tornando più, cioè sto andando a Diltop, non torno più indietro ad Alexandria alimentando qui le voci e la teoria dei dissapori tra Alexandria e Diltop insomma tra Michonne e Maggie e quindi abbiamo visto che Tara praticamente si sta schierando dalla parte di Maggie e non solo va da Maggie ma si porta via delle provviste e in più porta via anche la praticamente lo statuto delle comunità, delle comunità unite no? Che io chiamo nelle live, chiamo sempre lo statuto dell'Europa Unita, tipo infatti quando vediamo che è zi che l'apre lo statuto perché lo fa vedere a Carol e a Jerry che ci dice di essere in attesa di un figlio con Nabila e poi vediamo al tempo attuale che ne hanno più di uno di figlio niente vediamo che praticamente sotto il manifesto che devono fermare i leader di tutte le comunità vediamo solo tre nomi, vediamo Alexandria Oceanside e... che c'era? Alexandria Oceanside, ah è il regno e infatti hanno lasciato, avevano lasciato fuori Michonne, aveva lasciato fuori Hiltop e tutto questo sta a significare che c'erano comunque dei dissapori con Michonne quello che è successo ancora non si è capito però l'hanno fatto presente ancora una volta che infatti ho detto Hiltop è in Brexit, ho detto è uscito dall'Europa Unita delle comunità e niente, fatto sta che è così poi dopo quando rivediamo più avanti al giorno d'oggi il manifesto che lo rivediamo perché l'hanno incorniciato abbiamo visto che si sono aggiunte delle altre comunità quali Hiltop e anche il santuario che tra l'altro tra virgolette non c'è più quindi io credo che l'abbia... non so se non ce l'avevano fatte vedere prima ma a me, fatemelo sapere anche qui sotto io quando la prima volta che Zichel ha aperto il manifesto c'erano solo tre comunità Hiltop e il santuario non erano scritte secondo me le ha scritte lui in un momento successivo prima ancora che il santuario morisse insomma andasse a quel paese perché come abbiamo visto non c'è più il santuario insomma non c'è più niente quindi tra il momento che lui ha preso il manifesto e adesso insomma attuale lui deve aver aggiunto anche queste comunità qua nello spirito di riunire tutte le comunità e qui allora c'è da dire che allora io lo dico qua subito io e Zichel lo vedo morto cioè secondo me ce l'ha proprio scritto in fronte come io ho questo brufolo enorme sulla fronte cioè lui ci ha scritto morte praticamente e anche Jerry secondo me lo vedo un po' male perché in questa puntata ce li hanno fatti vedere tutte e due molto in buona luce cioè in tutte insomma facendo delle buone parti insomma no e quindi quando fanno così che ti fanno vedere un personaggio te lo elogiano te lo sbrodolano eccetera vuol dire che è vicina la fine se no io me l'aspettavo già direttamente in questo episodio la fine di Zichel invece no dovremmo aspettare per la fiera a proposito della fiera ci fanno vedere che il gruppo che tra l'altro l'arcera è tornata indietro che infatti si l'abbiamo vista che tornava indietro con Carol è tornata indietro e vanno un gruppo in spedizione vanno ad un cinema perché praticamente si stanno preparando per questa benedetta fiera e quindi prima sono andati fuori a cacciare che hanno individuato un gruppo di alci e quindi ci sarà da banchettare per tutti con queste con queste alci e poi dopodiché Zichel aveva un altro piano andare a questo cinema a prendere una lampadina per il proiettore perché anche loro hanno una sala cinematografica e siccome si è rotto il proiettore non possono più fare le serate dei film e quindi lui vuole fare anche questa cosa per insomma per la fiera quindi per lo spirito della comunità perché deve essere un momento di festa un momento gioioso un momento di convivenza pacifica tra tutti eccetera quindi lui è tutto è tutto incentrato su questa cosa che infatti è questo che gli faceva lampeggiare in fronte morte 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 perché ne sta parlando troppo bene di questo evento del futuro eccetera e che quindi io la vedo grigia anzi nera la vedo e niente quindi si conclude così dopo varie peripezie perché per zombie eccetera dovevano mettercela un po' di azione ovviamente riescono a prendere questa lampadina tornano indietro passiamo a a il top e alla questione dei sussurratori dunque c'è fuori alfa con una parte di gruppo che vuole sua figlia daryl va e gli dice assolutamente no non te la do lei gli dice risposta sbagliata ah perché premesso lei dice avete trapassato la nostra terra non ci saranno conflitti avete ucciso dei nostri non ci saranno conflitti l'unica cosa che vi chiedo è mia figlia indietro lui daryl gli dice di no lei facendo arrivano altri addirittura arrivano altri membri del gruppo per dire che sono in tanti e lei dice guardate che se non mi ridate mia figlia ci sarà un conflitto daryl fa il figo gli dice ah guarda che noi abbiamo le armi possiamo spazzarvi via tutti quanti in due minuti tac da milanese imbruttito così quindi lei tira fuori l'asso nella manica tira fuori alden e luke in tutto questo c'è la sordomuta conni che è nascosta nel campo di mais perché non aveva fatto in tempo ad entrare e qui c'è la scena più bella della puntata secondo me perché secondo me questa è stata la scena più bella la scena quella del neonato che tra l'altro anche se ci sono un po' di incongruenze perché e ve lo dico subito perché nel gruppo di alfa c'è una donna con un neonato insomma che si porta in giro questo neonato comincia a piangere non riesce lei non riesce a farlo smettere e si vede dietro che stanno già arrivando gli zombie i morti e alfa che aveva già dato ordine a due di tenerli in zona però comunque alla larga dal gruppo e niente fatto sta che la madre non riesce a calmare sto bambino e alfa gli facendo gli dice mollalo perché alfa fa questa similitudine con gli animali e praticamente dice che loro sono animali che vivono così vivono tra i morti e niente quindi questo è il prezzo da pagare insomma e qui cominciamo a vedere un po' la deviatezza e la spietatezza di alfa anche se non non ancora ha una minaccia vera e propria perché vabbè questo è il modo suo di pensare sono le regole del suo gruppo però non è ancora uscita verso gli altri questa spietatezza no? e che deve arrivare perché dovrà arrivare prima o poi no? e quindi niente quindi e qua c'è la scena che la madre lascia il bambino e c'è Luke praticamente dietro legate e fa tutti i gesti riesce a fare i gesti dei sordomuti insomma a parlare a gesti lo stesso e fa i gesti a Connie che prima gli aveva detto guarda stai attenta che arrivano degli zombie e poi gli dice guarda c'è un bambino che continua a piangere di lì quindi Connie vede la situazione parte a cannone prende sto bambino e torna tra insomma nel mais e e niente quindi riesce a scappare anche con poi l'aiuto di Daryl no? ed è troppo bella quella scena già mi è piaciuto il fatto di di Luke che è riuscito a comunicare con lei e poi mi è piaciuto anche il fatto che lei si sia esposta per salvare il neonato e poi anche la scena in sé di quando lei è nel mais che si trova davanti agli zombie che li deve uccidere che non sente niente questo questo senso di come posso dire di deprivazione dei sensi insomma no? ce l'hanno espresso bene secondo me l'hanno fatta molto bene questa scena e quindi niente poi è arrivata in soccorso Daryl con tra l'altro si è portato dietro due vecchi la vecchia e il suo marito il Fabbro che tra l'altro dice boh cioè tra tutte le persone che si portava a portare dietro lo si è portato dietro due vecchi e dici boh non so in una situazione del genere io lì l'ho vista insomma un po' un po' a caso questa cosa cioè non a caso però dovevano giustificare poi il fatto che gli hanno lasciato il bambino insomma perché a loro gli era morto il figlio e quindi lui era attraversava un momento difficile insomma quindi fanno tutte queste cose per giustificare sempre delle altre praticamente anche se in sé sono cose un po' campate per aria secondo me e poi l'altra incongruenza che dicevo prima è ok questi si sono portati dietro questo bambino neonato che chiaramente non ha un giorno questo bambino non ha qualche ora o un giorno e già qualche mese ce l'ha probabilmente almeno un mese o due ce l'ha questo bambino e niente e io dico come cavolo ha fatto sopravvivere così tanto visto che loro si spostano con i morti cioè non lo so non riesco a capire e quindi secondo me doveva già essere morto questo bambino però vabbè niente andiamo avanti mi sta venendo un raspino e niente praticamente intanto che Daryl si sta occupando di questa cosa del figlio dovevano portare finalmente si è deciso che doveva farlo subito secondo me di consegnargli la figlia ad Alfa perché che cazzo ce ne fregano i di Lydia niente ce ne fotte sega praticamente e niente lui finalmente si è deciso ma Henry quel deficiente che deve morire male se l'è portata via insomma l'ha fatta scappare e a quanto pare Inid e l'altra ragazzina nerd quella del gruppo dei ragazzini dicono noi lo sappiamo dove è andato Henry e andiamo noi a portarli indietro ok quindi Daryl va a occuparsi del neonato e quindi loro vanno che tra l'altro hanno dato un sacco di spazio a Inid in questa puntata boh c'è una cosa che mi destabilizzano un po' quindi come tutto lo spazio che stanno dando adesso a Inid che non ha mai fatto un cazzo di niente adesso ha parlato per metà puntata e il fatto anche di Daryl che c'è veramente per nove stagioni non ha detto una parola adesso in quattro episodi sta parlando tutto lui e quindi c'è questa cosa ok mi piace però un po' destabilizza perché non è che hanno fatto le cose graduali è passato da essere praticamente anche lui in muto praticamente a non dire una parola a essere lui il protagonista della serie praticamente e anche qui sì ok mi fa piacere però è una cosa che mi destabilizza forse avrei voluto vedere un po' di più Tara visto che è lei adesso la leader di Hilltop non mi sarebbe dispiaciuto vedere di più di Tara ma speriamo che nelle prossime puntate si vedrà un po' di più di lei visto quello che deve venire insomma dopodiché niente praticamente Lydia bacia Harry mandandolo totalmente fuori di testa e niente Enid non riesce a convincerlo però riesce a convincere lei che praticamente si offre volontaria per tornare indietro avviene questo scambio Alfa gli dà uno scappellotto a lei perché lei gli dice scusami mamma grazie che sei venuta a prendermi lei sbabamma una bella sberra che io ho visto Daryl ho detto secondo me qua succede un casino adesso ho visto Daryl sbiancare e lei gli dice devi chiamarmi Alfa come tutti gli altri e se ne vanno così apparentemente non è successo niente fatto sta che rientrano tutti quanti Harry dice ho capito perché lei doveva andare via eccetera fatto sta che non è vero non ha capito un cazzo perché poi passate due ore ha lasciato il messaggio che se ne andava per cercare Lydia insomma e qui Daryl esce a sua volta a cercarlo perché secondo me Daryl anche lui è stufo dice minchia Carol mi ha lasciato qua questo qua che me ne sta combinando una dietro l'altra e devo essere pure il badante il babysitter di Harry adesso e niente quindi esce a cercare Harry con cane e si aggiunge anche Connie che a quanto pare gli scrive non riesco più a vivere così secondo me non è che si è spaventata di tutta la cosa che è successa durante nel Mice insomma secondo me però vuole affinare di più i suoi sensi nel senso che vuole imparare a convivere con quello che ha e a sviluppare tipo le sue doti di non so affinare le sue le sue skills con con gli zombie probabilmente o vuole riuscire a stare meglio al mondo diciamo così no capitemi e niente quindi io l'ho vista in questo modo e secondo me diventerà una bet 2.0 nel senso che Mod Eril deve sorbirsi pure lei perché lui gli ha detto di no però lei praticamente non ha voluto sentire ragioni e lo segue no e quindi secondo me anche lì se io se fossi nella testa di Daryl dirà veramente che palle ma devo andare a cercare sto ragazzino deficiente in più mi si accolla questa sordomuta che devo proteggere pure lei e niente e quindi è così niente elaboro solo la fine del mio pensiero e basta allora secondo me succederà qualcosa a questa fiera è inevitabile Daryl noi diciamo io subito finita la puntata ho detto cavoli perché Daryl va a cercare sto bimbo minchia al posto che andare al regno a avvertirli della minaccia però se se noi vediamo bene le cose come sono successe con i sussurratori praticamente Alfa non gli ha dato da pensare di essere una minaccia anche con il fatto che diceva avete altropassato la mia terra non ci saranno conflitti avete ammazzato dei nostri non ci saranno conflitti io voglio solo mia figlia quindi a parte la storia del neonato ha fatto tutto ha creato tutta una situazione apparentemente pacifica e quindi non si evince ancora il il pericolo insomma il pericolo di questo gruppo e quindi secondo me nel senso il top dice questi qua se ne sono andati punto stop loro per fatti loro noi per fatti nostri tra l'allero tra l'allà chi se ne frega e quindi secondo me sono stati un po' sottostimati i sussurratori e quindi anche qui ne vedremo delle belle perché quando succederà il casino che non so come si svolgerà adesso noi non sappiamo ancora niente dei sussurratori quindi perché hanno questo desiderio di andare a distruggere la fiera cioè distruggere la fiera che cosa scatenerà in alfa il il fatto di andare a del momento delle picche di tutte le uccisioni insomma dobbiamo ancora un po' vedere come ragioneranno i sussurratori che mosse faranno che cavolano in testa e come procederà la cosa fatto sta che adesso Henry che va a cercare Lydia con dietro Daryl che va per portarselo indietro magari creeranno destabilizzazioni un po' di destabilizzazione e niente quindi fatemi mi raccomando fatevi sentire nei commenti fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'episodio lasciatemi un like mi raccomando e iscrivetevi se non siete ancora iscritti noi ci vediamo alla prossima e io intanto vi mando un bacione ciao